Buongiorno amicissimi, buongiorno al nostro Roberto Molino Marina Meschino, buongiorno Gerry Toscano, Italo Allungato Gianni Valicella Gabriele Gabri Federico Martinez Daniela Vivarelli, buongiorno Alessandra Fischetti, ciao Ale Daniela Baldoni, Nadia Silvia Mauro Matti Gianluca Giangiangi Peccarsandro, ciao Sandro Fabrizio Tumolo Giovina Michele Germana Spaggiari Ciao Mauro da Pisa Antonio Giannone Gianni Scorzelli, ciao il nostro Presidentone Gio Nastro Rossi, Teresa Tombesi Antonio Gerevini, buon pomeriggio Enrico, saluto allo staff e il gruppo in diretta Grazie dei saluti Contracambiamo Sebastiano, Sebastiano Pelegatta, Claudio Dell'Olmo, Bruno Battistuzzi, ciao Bruno Roberto Perticati, Perticari, Marcello Bajo, Marco Borucchia, Andrea Sietti, ciao Andrea, ciao amico mio Kurt Kurt Vediamo se troviamo una luce Maire o qualcosa del genere Gio Nastro, buongiorno Teresa Tombesi, ciao Teresa Andrea Sietti Kurt Maire Valentina Garilli Nadia Silva Annalisa Fragiacomo, ciao Annalisa Gianni Valicella, un grande abbraccio Annalisa Roberto Poletti Vincenzo Cantile Mattia Angioletti Gianni Scorzelli Ola Adarinaga per cui tutto il gruppo è Adarinaga Maurizio Lorengo Uela, ciao Elifo Marianna Andronache Carlo Mazzolari Sandra Vio, ciao Rosa D'Ortona Rita Bonfiglio Emilio Postiglione Lazzariemma Mazzola Santo Cristina Olivo Ciao Cri Gloria Grillini Chiappini Paola Lella Luppi Mario Esposito Barbara Tozzi Eccoci in diretta Carissimi amici Sempre da Gran Canaria Sud di Gran Canaria Oggi a parte il clima Un po' incerto Questa notte abbiamo avuto finalmente Una bella pioggia che ha un po' rinfrescato L'aria calda di questi giorni Ma perdura comunque la calima Avete visto in orizzonte nelle immagini precedenti Una leggera nebbiolina Questa calima che imperterrita ormai da tempo Raggiunge appunto Gran Canaria Solcando l'Oceano Atlantico Laddove ci sono un po' di problemi a livello meteorologico Noi ne riceviamo il codazzo E in realtà un mare calmissimo Un clima spettacolare Però ci dobbiamo Come posso dire Sorbire Questa calima Assolutamente fastidiosa Daniela Ciarpaglini Calogero Giordano Scusate se fisso Oltremodo i messaggi Ma cerco di Alessio Pistillo Stefano Marchetti Fausto Negretti Sono tantissimi gli amici Che hanno iniziato a seguire Vivere alle Canarie Nei periodi Come posso dire Meno indicati Oggi siamo Meno indicati Da questa Epidemia Particolare Di cui Non andremo a parlare più di tanto Ma un po' di cuoricini Un po' di mi piace In realtà ci vogliono Io controllo Ho smesso di leggere i nomi Ringrazio sempre Comunque tutti Siete tantissimi Il nostro Tony Gullotta Mi appare adesso Un grande saluto Al caro amico Siete sempre tantissimi A seguirci E noi vi ringraziamo Tantissimo Per questo Non sempre Riusciamo a farvi vedere Immagini Gradite Magari da tutti Ci sono Determinati I modi E determinate differenze Da parte vostra Di interpretare Appunto Le Canarie O Interpretare Il sapere Cioè Cosa In realtà Interessa A voi Relativo Appunto Alle Canarie Vediamo Vediamo un attimo Che leggo Due messaggi Vediamo 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 Se mi è sfuggito qualcosa No Per il momento No Sono tutti saluti Un po' di Chiacchierate Appunto Fra amici La luce È sempre Piuttosto complicata Che sia io Che non ci vedo più Ma no Non diciamo questo Allora ragazzi Iniziamo a dare Il numero Di Pier Al 373 774 2186 Potete telefonare E parlare Con Pierangelo Che vi darà Tutte le informazioni Assolutamente Necessarie Per Raggiungere Gran Canaria O Fuerteventura Le due isole Di cui Noi Ci occupiamo Per cui Molte volte Do informazioni Volentieri Lo faccio Lo facciamo Noi tutti Vi diamo informazioni Ma poi scopriamo Che alla fine Il vostro interesse Era Tenerife O qualche altra isola Che ci sta Ma noi in realtà Non ci possiamo Come posso dire Trasferire Su un'altra isola Noi lavoriamo Con queste due isole A parte Questo periodo Di covid Ma In realtà Il nostro lavoro È già Abbastanza pesante Lavorando Sulle due isole E non siamo Assolutamente Interessati Anche per altri motivi A dire la verità Uno dei motivi Principali È la Come posso dire Ciò che andremo A trovare Quando ci trasferiamo A partire dai servizi A partire da tutto Ma Cerchiamo un attimo Di Fare un po' Di ordine Ringraziamo Sempre Che oggi È Al recupero Scolastico Di Carlotta Il nostro Piero E lo iniziamo A ringraziare E iniziamo A dare un po' Di ordine Di idee Alla nostra Diretta Purtroppo Non posso farvi vedere Bellissimi posti Ma Cercherò Da questa Terrazza Con una vista Magnifica Nonostante la calima Di Come posso dire Interpretare Dal vivo Quello che succede Sotto di noi Nella spiaggetta Sotto l'ufficio In quanto Non posso Permettermi In questi giorni Di camminare a lungo Proprio l'altro giorno Nella diretta Che ci portava Passito Blanco In mezzo A tutte le rocce Devo aver preso Una storta Che al momento Mi è sembrata nulla Ma finita la diretta E arrivati In ora Tarda Serale Questa Caviglia Si è gonfiata Moltissimo E non mi permette Di fare La mia solita strada Per cui Dirette Di questa settimana Avrei dovuto essere A riposo Totale Per 4-5 giorni Ma non fa Assolutamente nulla Ho una fasciatura A fine E va bene Così Questa mattina Ero in tour Con amici Ho cercato Di camminare Un po' poco Ma Veramente Non Non riesco A fare di più Non vorrei Poi essere Costretto Veramente Ad un fermo Per la caviglia Non Non è assolutamente Il caso Cerchiamo di gestircela Così Come siamo E ci raccontiamo Qualcosa Appunto Durante le nostre dirette Vediamo se Qual è la zona più fresca Di Gran Canaria Allora Vediamo Che stanno arrivando Un po' di messaggi Buongiorno Tina Casertano Buongiorno a te Tina Claudio Ruat Sempre dal Cannavese Ciao Claudio Sandro Vaio Qual è la zona più fresca Di Gran Canaria Il nord Sostanzialmente Cioè La zona con il clima migliore In assoluto È il sud Da dove Vi sto trasmettendo ora E dove noi In realtà viviamo A parte Enrico e Piero Che vivono Io ad Arinaga E Piero ad Ingegno Però al massimo Siamo a metà dell'isola La zona con il clima migliore È Il sud Ovviamente Se dobbiamo parlare Di temperature Leggermente più basse Dobbiamo raggiungere La Spalmas La zona nordica Con Una serie di Come posso dire Passaggi Di perturbazioni Anche piovose Noiose Cioè Il clima È un po' diverso È tra Il sud E il nord Il nord Sicuramente Più fresco Sto leggendo i messaggi Ragazzi Almeno Rispondo a tutti Visto che Sono in una Situazione Di Di luce Dove Potervi Rispondere Allora Federico Martinez Dice No Povero Guarisci presto No Ma non preoccuparti Non è nulla Di particolare Però io Durante le dirette Faccio veramente Molti chilometri E Grazie Grazie Ragazzi E in questi Proprio nella diretta Di oggi Non so Vedremo Sabato Cora succederà Ci accontenteremo Di Di Chiacchierare Di raccontarci Qualche cosa Ci sta anche Con me Kilometri Ne avete fatti Veramente Tanti Abbiamo Fatto le dirette In auto Le abbiamo fatte In moto Siamo andati In montagna Abbiamo girato La Spalmas Da tutte le parti Abbiamo Visitato Il sud In qualsiasi Località In ogni dove Per cui Abbiamo Come posso dire La possibilità Di leggere Tranquillamente I nostri messaggi E di chiacchierare Un po' So che sarà Meno interessante Del solito Ma Altro Non possiamo fare Enrico Ci spiace tantissimo Guarisci presto Per favore Bruno Battistuzzi Sì tranquillo Nessunissimo problema Ce la faccio Non riesco Rosapetti Te l'abbiamo detto Enrico Che eri il nostro No No L'altro giorno Mi sono avventurato In In Quel percorso Che raggiungeva Appunto Passito Ma Era un percorso Come posso dire Pieno Trappo pieno Di sassi E di rocce Grosse Ma nulla Non sembrava nulla Devo aver preso Una leggera storta E in realtà Alla sera Avevo proprio Un bel caviglione E ora Cerco di Mi muovo Ma non posso fare Due o tre chilometri Come faccio In ogni diretta In ogni diretta Minimo Quando va bene Io faccio due o tre chilometri Ma proprio A non aver fatto Assolutamente nulla Non aver Come posso dire Aver camminato Pochissimo Faccio due o tre chilometri Perché Non è solo la diretta Di solito In diretta Io vi abbandono Alla fine Di un percorso Ma non ho affatto Andate e ritorno Poi di solito Mi rimane il ritorno Ma diamo un po' Di informazioni invece A tutti i nostri amici A tutti gli amici nuovi Che spesso e volentieri Ci vanno anche A chiedere Di fatto Cosa fa Vivere le Canarie Cosa Che tipo di attività Svolge Se è un ente benefico Sapete che spesso Ci chiedono anche questo Vediamo questo messaggio Da Giorgio Mambretti Allora A proposito di moto Perché questa volta Non fate vedere Anche il circuito Dovebbero essere vicino A Maspalomas Sì sì Assolutamente Ma noi Non abbiamo Assolutamente Nessun Come posso dire Nessun interesse Allora Il circuito Ha esattamente Tre circuiti Perché Ci sono i kart Quelli da 125 Ci sono i kart Piccoli Cinquantini Che viaggiano in due Percorsi In due piste Differenti E poi Più in basso Verso il mare C'è la pista Appunto di moto Carina Non è sicuramente L'autodromo di Monza Ma è carino Però è in una zona Dove altro non hai Per cui nel momento In cui ti ho fatto vedere Il circuito Francamente Non Poi allora Non guardare oggi Che hai questo bel clima Di solito in quella zona È a Maspalomas È prima di Sant'Agustin Lo vedi già Passando dall'autostrada Quando dall'autostrada Vedi l'aereo della Binter Fermo Alle porte di Maspalomas Teniamo conto Che Maspalomas Però sono una serie Di paesi Esatto Dire Maspalomas E non avere detto niente Insomma È molto 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 parente Però Ripeto Ti faccio vedere Quello Sì Vicino c'è Il gioco della guerra C'è un raggruppamento Di attività Di divertimento In quella zona Vedremo Magari Organizzeremo anche questo Allora Rosa Petti Ma certo R A noi piace Quello che dici Più che altro Io ti ringrazio tantissimo Rosa In realtà Quello che È molto interessante Poter visitare i posti Poter vedere Cosa succede In questi periodi Poi soprattutto oggi Con questo brutto tempo Non si ha nemmeno La possibilità Di vedere Le spiagge Non sono Totalmente Deserte Insomma C'è qualche d'uno Che ha deciso comunque Di venire a fare Un giro al mare E Vediamo I messaggi E Ci sta Nel senso Vengono a fare Un giro al mare Stanno in riva al mare Ma parecchi fanno Il bagno Allora La Meroneras Che meraviglia Vi tolgo La Rocca Sì La città di Meroneras È bella È una cittadina Piccolina Molto 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 Turistica Ve ne siete resi conto Durante Le dirette Di questi tempi Dove Il turismo È Diciamo Ridimensionato Di oltre Il 50% Che ci sono Praticamente Solo alberghi E Le persone Che andiamo ad incontrare Pur esistenti Perché Effettivamente Che alle Canarie Che alle Canarie Sia deserto Io questa mattina Ero in tour E Un po' di gente Nonostante il brutto tempo Vi posso assolutamente Garantire Che Ce n'era Volevo Volevo Spiegare In realtà Cosa fa Vivere Alle Canarie Ho iniziato Questo tipo Di discorso Proprio L'altro giorno Per Capisco E Vedi i numeri Calare E lo comprendo Tranquillamente Perché ripeto Sono proprio i posti Vedere il mare Cosa Ci riserverà Quel giorno La tal diretta Eccetera Però purtroppo Ragazzi A parte Che oggi Non sarebbe stato Come posso dire Super interessante Visto Questo Clima Un po' così Sicuramente Già nella Diretta di domani Fatta Che farà Claudio Avremo il sole E poi sabato Pur non potendo camminare Dovete Concedermela Spero Di recuperare Almeno per la passeggiata Della domenica Ma vediamo Perché In realtà Con questo caviglione Faccio veramente Molto fatica Non sono rimasto A riposo Appunto Come vi dicevo Ma fare I chilometri Che faccio Normalmente Durante le dirette È un po' complicato Per le persone nuove Invece Vivere alle Canarie È un'agenzia In realtà Non Non è una Ollus Non è un qualcosa Di benefico O no profit In realtà Vivere alle Canarie È un'agenzia Che ha Una serie Di servizi Tra i primi Organizzare Ed essere specializzata Nei trasferimenti Per cui Dalla A Alla Z Da proprio Tutto Ciò che serve Per trasferirsi In questo caso Dall'Italia Alle Canarie Già A priori Nelle nostre dirette Nonostante Sia bellissimo Vedere Il mare Vedere la spiaggia Visitare Le località Ma quello Che conta Moltissimo Per tantissime persone È estrapolare Tutte le notizie Che vengono Date Diretta Per diretta Ieri abbiamo accennato Un po' Come si diventa Residenti Da pensionati Se ricordate L'altro giorno Abbiamo spiegato Che tipo Di Residenza E come Ottenerla Se sei un Lavoratore Autonomo Insomma Ci sono Una serie Di condizioni Differenti Ma di fatto Tutto ciò Deve Essere Successivo Alla mia Decisione Di Trasferismo Non ci occupiamo Solo di Trasferimenti Noi siamo anche Un'agenzia immobiliare Qualora tu Dovessi avere Delle necessità E volessi Acquistare Casa Le Canarie Ti possiamo dare Una mano Come agenzia Possiamo Procurarti Casa Per Sei mesi Per svernare Che tu Voglia svernare O voglia fare I primi sei mesi Della tua esperienza Perché I sei mesi Noi li indichiamo E li Consigliamo Anche a chi Ha già deciso Di trasferirsi Cioè Facciamo una prova A prescindere Se la mia decisione È stata presa Però Prendiamola sul campo Prendiamola Dedicandoci Più tempo Non facendo Una settimana 10 giorni 20 giorni Un mese E decido Chiudo tutto In Italia E vado alle Canarie No Noi Ogni diretta Lo diciamo E lo ripetiamo Sarebbe meglio Ripeto Sarebbe meglio Non credo che tutti i casi Siano uguali In alcuni casi Sicuramente Non sarà possibile Ci vuole anche Un'economia Che ti sorregge Per fare il percorso Che vi sto indicando io Ma In realtà La cosa Più bella Sarebbe Più bella E più giusta Sarebbe Farsi sei mesi Senza Toccare nulla Nemmeno Nell'armadio A casa In Italia Di modo che Dopo sei mesi Se rimango Della stessa opinione E rimango motivato Esattamente A quello Che Sarebbe Un trasferimento Definitivo Lo posso Svolgere A cuor sereno Mettiamola così Credo Di essere stato Abbastanza chiaro Ipotizziamo Ovviamente Che Ho già Superato Il mio Motivo Scatenante Che è il primo Giorno di pensiero Me ne vado Dall'Italia Andarsene Dall'Italia Ovviamente Non vuol dire Me ne vado Per sempre Non vuol dire Essere esiliati E' scontato Questo Però Voglio ripeterlo Anche perché Tutto è reversibile Se volessimo Anche La parte Come posso dire Di defiscalizzazione Se io decidessi Di venire A sfruttare La mia pensione Alle Canarie E pagare Le tasse Canarie Che sono Decisamente Inferiori Rispetto A quelle italiane Nel momento In cui Dovessi Decidere Di Ritornare In Italia Faccio Esattamente Il processo Inverso Però Vi rendete Conto Se ho avuto Modo Di poter Valutare Per sei mesi La vita Alle Canarie Quello che Di fatto Sarà importante Non sarà come Fare un documento Un documento Lo faccio una volta Difiscalizzo Difiscalizzo Una volta Non sarò Collegato Ogni giorno Agli uffici Per il quale Ovviamente In tutto Vi daremo Una mano Noi Dobbiamo però Tenere conto Che il mio vero obiettivo È venire A stare sereno In un posto tranquillo In un posto semplice Cercare di divertirmi In base Alle offerte Dell'isola Alle offerte A livello di attrattive A livello Di località Da visitare O addirittura Attività da fare In questo caso Il nostro amico Prima parlava di moto Potrebbe essere Tranquillamente Un'attività C'è chi Ha intenzione di venire E andare a sparare Al tiro a segno Va benissimo Cioè Non c'è nessun problema Ci sono veramente Tantissime cose da fare In questi sei mesi Cercherò la mia identità Che è totalmente Differente Dalla mia identità Italiana Sono sempre io Se parto brutto Arrivo brutto Se parto bello Arrivo bello Ricordiamocelo questo Ma la mia identità Sottoposta E appoggiata Ad una struttura Totalmente Differente Potrebbe avere Una reazione Inaspettata Per cui Potrei non trovarmi Cioè Tutto quello Che pensavo Di un posto tranquillo Di un posto bello Là dove il clima È bello Tutto l'anno Dove probabilmente Anche qualche acciacco Andrò A Debellarlo Per una serie Di motivazioni Di affetti Di mancanza Di parenti Eccetera Eccetera In realtà Potrebbe Non Starmi bene Noi Come posso dire Seguiamo Molto Quello che sono Le vostre esigenze Vivere alle Canarie È nata Un po' come agenzia Un'agenzia normale Che noi facciamo Ancora come viaggi Perché sono tantissime Le persone Che vengono Ciao Ivana Sono tantissime Le persone Che decidono Di venire in vacanza Alle Canarie Una settimana Poi la ripetono Poi ci rivengono Ci rivengono 20 giorni Chi fa un mese Abbiamo amici Che da anni Puntualmente Ritornano alle Canarie Per fare Le loro vacanze E va benissimo Ma siete stati Proprio voi A iniziare A chiederci Di potervi Aiutare A trasferirmi Da lì Ha preso piede Vivere alle Canarie Con tutti i suoi servizi E dopo tanti anni La specializzazione Al trasferimento Per cui In questo periodo Abbiamo capito Come ragiona Il nostro concittadino Che cosa vuole trovare Quando arriva Lo so che non siamo tutti uguali Però di fatto Ci assomigliamo Ovviamente Tutti Un pochino Per cui Allora Si torna alla realtà Chi è che torna alla realtà? Vediamo Ivan Bottin Si torna alla realtà Allora Non so Se è una realtà Tua Ivan Se è una realtà Canaria Eccetera Io spero Che invece Di tornare Alla realtà Perché Ora come ora Abbiamo bisogno Di tornare Alla normalità No? Cioè Di riuscire A riprendersi in mano La nostra vita Il nostro futuro Il nostro lavoro Le nostre professioni I nostri hobby Cosa che In realtà Oggi come oggi Da tutte le parti Credo Sia Come posso dire Ciao Alla nostra Amica Anna Maria Bocca Credo Che tutti Qualcosa Voler Volendolo O non volendolo Siamo stati costretti Comunque A cambiare Betty Paluzzi Fabrizia Marchetti Ciao ragazze Ora Per Muovere A vacanze A parte Ma Per Come posso dire Mettere in pratica La mia voglia Di andare a vivere In una zona Dove C'è il mare E Cosa volete Per noi del nord Io Arrivo da Milano Il mare È un miraggio Nel senso Se guardavo fuori da casa mia Vedevo la fermata del tram Ovviamente Oggi Apro la finestra di casa E vedo il mare Io vivo in riva al mare Per cui potete pensare Che per nulla che sia Perché di fatto non mi porta nulla in tasca immediatamente Però è un obiettivo Per me Quello è stato un obiettivo raggiunto Un momento importante della mia vita Là dove ho deciso di fare una cosa E io l'ho decisa E sono andato a vivere ad Arinaga Quando in realtà Pochissima gente viveva ad Arinaga Sapete che nelle dirette parliamo di Arinaga Il paese dove abito io La domenica ve lo faccio vedere Eccetera Quando ci sono andato io Era uguale adesso Non è cambiato nulla Magari qualche riforma Comunque è stata fatta Si sta strutturando parecchie Arinaga E nel tempo si strutturerà sempre di più Io sono convinto che Pur essendo una zona residenziale Ma nell'arco di qualche anno Probabilmente diventerà anche vacational Cioè sarà possibile per legge Addirittura fare E affittare case Per vacanza ad Arinaga Ripeto Per me è stato un obiettivo Ma potrebbe essere lo stesso identico obiettivo Per tanti altri Nemmeno io Ho potuto vivere sul mare al sud Non ci sono case sul mare Ci sono alberghi O ville importantissime Dove io Con la mia economia Ovviamente Non mi potevo nemmeno avvicinare A determinate realtà Ho dovuto Come posso dire Mediare Trovare una via di mezzo Tra quello che in realtà era Il mio addettivo E quello che mi potevo permettere Allora Victor Cico Mendoza Pongo la stessa domanda Che ti ho fatto ieri Di cosa vi occupate Cosa trattate Cosa vendete Seguo le dirette Seguo le dirette Ma non Allora L'ho spiegato È probabile Che tu riesci a prendere Una delle nostre dirette Ma te lo dico Di nuovo Noi siamo Un'agenzia Ci occupiamo di Pre trasferimenti Pre trasferimenti Affittiamo case Sia per vacanza Che per Larga temporada Che vuol dire lungo periodo Cioè residenziale Abbiamo dei pacchetti Viaggio Che sono Mirati A Nudo e crudo Pacchetto Per Poter venire Alle canarie E vedere Le canarie Da vacanziero O Per lustrazione Abbiamo dei pacchetti Per Mirati A venire E A cercare Di Incamerare Il più possibile Informazioni Per aprire un'attività O addirittura In un modo Un po' diverso Ma per trovare Lavoro Da dipendente Abbiamo Questi pacchetti Che comprendono Volo aereo Andato e ritorno Per due persone Compreso di Transfer Per cui Veniamo a prendere In aeroporto E vi riportiamo Quando partite Vi diamo casa In complesso Con piscina Una casa Con lo standard Canario Non è la stessa cosa Andare in albergo Io vado in albergo Mi preparano Da mangiare Vado in spiaggia Tornino in albergo Alla sera Vado a giocare Alle macchinette Al casino Vado a fare una passeggiata Io non capisco Come sono le Canarie Una delle prime cose Che io ho bisogno Di fare È andare a vivere In un complesso In un complesso Perché qui Sono complessi Al sud Di Gran Canaria Sono complessi Con piscina Lì Da italiano Senza Fare i soliti Discorsi Da italiano Scusatemi L'espressione Vado all'estero Ma non voglio Avere a che fare Con gli italiani No Tu avrai Invece Sicuramente Una cernita Di quello che saranno Le persone che ti piacciono E le persone che non ti piacciono Ma di fatto Avrai molto a che fare Con gli italiani Per una questione di lingua Per una questione Di informazioni Per una questione Della partita a carte Del pesce Che cuciniamo assieme Della pasta asciutta Da mangiare assieme I complessi Sono un po' La vita di corte Che c'era una volta Nella Brianza Nella Milano Ma penso Da tutte le parti Anche nel meridione Eccetera Magari in meridione C'è ancora Questa tradizione O questa bella abitudine Al nord Magari si è un po' persa Avendo cambiato Anche la struttura Delle case Eccetera Per cui Vivere alle Canarie Specializzati Nei trasferimenti Agenzia Vacanza Viaggio Sempre agenzia Ti diamo casa E ti vendiamo casa Siamo ovviamente Espertissimi Di Canarie A livello burocratico E a livello territoriale Nel modo più assoluto È il nostro lavoro Per cui Vi occupate anche di Fuerteventura Sì Esatto Noi lavoriamo Sia a Gran Canaria E a Fuerteventura Altre isole A noi Non interessano Adesso ripeto Probabilmente Anche messi insieme Tutte le isole Avresti lo stesso La metà del turismo Di sei mesi fa Di otto mesi fa Eccetera Eccetera Ma A tempi Allora Vi occupate anche di Fuerteventura Sì sì Assolutamente Sì sì Fuerteventura Ci mancherebbe Angelo Fuerteventura E Gran Canaria È chiaro che Parlando di trasferimenti Andiamo a toccare Una marea Di identità Personali Cioè Chi deve andare in pensione Con la quota 100 Chi è già in pensione Chi andrà l'anno prossimo Chi viene in vacanza Perché vuole comprare case E fare un investimento Chi Vuole venire a svernare Per cui vuole venire a capire Non gli interessa tanto Di fiscalizzare Però Insomma Fare qualche mese Alle Canarie Eccetera Eccetera E lì Cercheremo di specificare Perché I sei mesi E non i quattro I tre Anche se sono possibili fare Ma costa meno Fare i sei mesi Piuttosto che i quattro Perché i quattro Sei turista Sei mesi Te la facciamo passare Come residente Mi dicono Letizia E ben Allora Mi dicono Le notizie Ben pagate Allora Vediamo Che non ho capito Questo messaggio Mi dicono Scusate Non ho capito La domanda Beh ripetimi La domanda Non c'è nessunissimo problema Non ho capito La tua domanda L'edilizia L'edilizia È Fatta dai canari Tu Puoi lavorarci Se sei bravo Ti apri Generalmente funziona così Ti apri una partita IVA E vai a lavorare Con Le imprese Del posto Difficilmente Vieni assunto Però Se ti fai conoscere Può anche essere Che Ti assumano direttamente Se invece vuoi lavorare Tu in prima persona E devi farti giro È meglio Che tu vada Veramente Come padroncino A lavorare Per qualcuno E Poi Successivamente Vedere tu Se riesci ad avere clienti Eccetera Loro Sono Del posto Hanno più contatti È meglio Lavorare con un canario Sono quasi tutti canari Anche le imprese piccole Ma magari sono imprese piccole A cui vengono affidati Grossi appalti Forse Intendeva l'edilizia Come lavoro E ben pagato Come lavoro Ti accordi Non esistono Come posso dire Stipendi ben pagati Al giorno d'oggi Da nessuna parte Se hai uno stipendio Ben pagato Se hai una bosca bianca A mio avviso Posso assolutamente sbagliare Canari comprese Non Non Però Dipende Se io faccio un qualcosa Dove c'è richiesta E posso trattare È perché tutti ci occupiamo Tutti della stessa cosa È un po' Come tutte le persone Hanno ragione Qui va tantissimi bar Vanno tantissimi ristoranti Ma tutti quelli che arrivano Pizzeria Bar Ristoranti Tra un po' Dove li mettiamo? Cioè non ci saranno più case Dove andare ad abitare Perché apriranno pizzerie Bar Ristoranti Ad un certo punto Ci sarà un limite E ne stanno aprendo ancora Da tutte le parti Nonostante il covid Ve lo posso garantire C'è gente che ha capito Che alla fine di ottobre A metà ottobre Ripartirà tutto A novembre Ripartirà tutto E già si sta organizzando Allora Siete a Tenerife Viviana Ottone Assolutamente no Gran Canaria E Forteventura Noi non lavoriamo Con Tenerife Ti chiedo scusa Perdonami Ma proprio Non Non lavoriamo Con quella Con quell'isola Grazie mille Per la risposta Sei stato molto esaustivo Molto chiaro Non sono mai stato Alle Canarie Ci verrò Molto presto Tranquillo Devi fare una bella Perlustrazione Non buttarla via Fatti una per non buttare via Il tempo Ma è sprecare il tempo Ti fai una bella Perlustrazione E vedrai che Rimarai contento Rimarai contento Di aver fatto Un'esperienza Di questo genere Rimarai contento Perché vai A vedere Ora Che esiste ancora Vai a vedere Uno degli ultimi Baluardi Di paesi Che sono Pur Indietro Trent'anni Dall'Italia Ma con Una semplicità Una burocrazia Totalmente Differenti Eppure stanno in piedi Stanno in piedi Benissimo La gente vive Normalmente Ripeto Quello bello È bello Quello brutto È brutto Volevo dire Anche quello Scemo È scemo E quello Intelligente È intelligente Ma vi posso Assolutamente Anche perché Il Pirla C'è da tutte le parti Chi è di Milano A buon intenditor Poche parole Allora Nonna Steffi Ciao Vediamo Se c'è qualche messaggio Se c'è qualche messaggio Qualche altro messaggio A cui rispondere Oggi che siamo qui Tranquilli Riesco a vedere i messaggi Scatenatevi pure Se no Ve li mettete da parte Per sabato Perché Sono convinto Che avremo Qualche giorno Per confrontarci Tranquillamente I numeri Oltretutto Stanno anche salendo Allora Marina Ria Ciao Marina Un grande bacio Ciao Ciao Capite un po' Come funziona Non c'è necessariamente Bisogno di andare via Dal vostro paese O possono essere Delle vacanze Più lunghe Dopo una vita di lavoro Dopo un mare di tempo A cui siete stati Magari bloccati In aziende Daniela Ferraris Ciao Mi piacerebbe Aprire un negozio Di abbigliamento Come va lì Questo settore Me lo consigli Appena si può Allora Ma che lavoro c'è Io sono stato Due volte Tre mesi Lavoro zero Allora Dipende quando E dipende Che cosa sai fare Cioè Nessuno È qua Come da nessuna parte Al mondo È qua Aspettare Che arrivi tu Per darti lavoro Te lo devi procurare Dipende Cosa sei Un saldatore È chiaro Che se stai in giro A Maspalomas Poli industriali Non ce ne sono Dovrei andare A cercare Al poli industriale Di Melenara Dovrei Vedere Dove fanno l'acciaio Dove lo lavorano Insomma Ci sono Una serie Di situazioni Chiaro che tutti Arrivano Vogliono fare Tutti i camerieri Perché Si fa in fretta Insomma Allora Alessandra Fischetti Allora Eppure Ammo le Canarie Sta guardando La nostra Ale ha scritto No Enrico Perazzi Perché Probabilmente Qualcuno Ha chiesto Chi ero Invece Alla nostra Amica Che vuole aprire Un negozio D'abbigliamento Se Lo vuoi aprire In un centro Commerciale Con le grandi firme Se vuoi metterti A giocare Io ho avuto Negozio D'abbigliamento Per cui So esattamente Di che cosa Stiamo parlando Tieni conto Che per l'uomo Qui Alla grande Vazzara O se no Devi andare a corti inglesi Dove ci sono tutte le firme E ti ammazzano Sui saldi Il resto Così spicciolo Per strada Nei posti turistici È tutta roba cinese Capisci O hai un desnudo Che Però Attenzione L'imprenditore Non Adesso L'imprenditore Ha voluto Assumere Un'importanza Perché ha il denaro Perché oggi Che ha il denaro Può permettersi Di fare L'imprenditore A essere imprenditori Non è il denaro A essere imprenditori Sono le idee Le capacità Cioè fiutare Dove andare a investire Perché capisci Che una cosa Può essere Nuova Perché non c'è Può essere modificata Perché è L'espressione commerciale In quella zona È sbagliata O addirittura O addirittura A inventarsi Qualche cosa Per cui Anche a livello D'abbigliamento Bisogna dire Quale tipo D'abbigliamento Poi Signora Ragazzo Uomo Bambino Soltanto Accessori L'abbigliamento È impressionante Cioè Come Vastità Il vestitino Giusto È chiaro Che se devo servire La signora E la signora Un po' bella Il negozio D'abbigliamento Lo aprirei Alla spalma Se devo aprire Su strada Io Con tutti i costi Con tutto il sacrificio Dei centri commerciali Che sono aperti Alla domenica Qui fino a mezzogiorno Con tutto Il sacrificio Che i centri commerciali Chiudono alle 10 E devo fare i turni Eccetera 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 Perché so benissimo Cosa vuol dire In realtà Io scelgo mille volte I centri commerciali Perché Quasi Al 150% Io Lavoro A livello Di negozio Turistico Il classico Negozio Se intendi Quello Che puoi trovare In costa azzurra Su casa Su strada Scusami Che vende Il lino Che vende Tutte I vestiti Particolari No Non è la zona giusta Non è la zona giusta Qua le Canarie La gente arriva Perché mentre sta camminando Per strada Come si dice a Milano Seccata face carp E va a piedi nudi Cioè È diverso È un posto diverso Poi vuoi andare a fare una serata teatro Alla Spalmas Vuoi andare in un bellissimo ristorante Sfighettare tutto Ci sta Per l'amor di Dio Ma la larga misura Ma la larga misura di chi spenderà da te Non è super elegante Allora È sportiva È pratica È comoda È l'etichetta C'è e non c'è Vediamo Spero Sono delle persone Infatti Siamo saliti Ancora Di numero E poi siamo scesi un'altra volta Allora Siamo però Arrivati alla fine Abbiamo fatto quattro chiacchiere Voi preparate Allora Buon poveriggio Enrico Io tra due anni Vado in pensione E gli ultimi anni Li vorrei passare Decentemente Il nostro Ciro Campagna Ciro Io qua ci vivo Io mi trovo bene I pensionati Che hanno Come ti posso dire Non hanno l'argento vivo addosso Perché poi qua li vedi No? Arrivano Sono tutti sclerati Hai capito? Quando arrivano dall'Italia Sono tutti presi Loro devono fare qualcosa Ma cosa devi fare? Vieni le canarie Rilassati Vai in spiaggia Se sei del tipo Relax Ti prendi la tua pensione Te la metti in tasca Poi Ti dirò Anche Nelle prossime dirette Ripeterò Con che parametri Andremo a valutare La tua pensione C'è un sito internet Per contattarti Sì sì Assolutamente Victor Cico Mendoza Vive www.viverealecanarie.com E se vuoi Al 373-774-2186 Può parlare Con mio fratello Pierangelo Senza Nessunissimo problema Noi Mi fermerei qua Così vi lascio un po' Con il discorso Un po' La riprendiamo Quella del pensionato Che arriva tutto sclerato La riprendiamo Perché è anche una macchietta A un certo punto Questa cosa Nonostante Per l'amor di Dio Io parli dei miei amici Pensionati Con amore Ci siamo perfettamente D'accordo Perché sono dei tesori E Noi riprendiamo Questa Chiacchierata Magari anche da questo punto Da dove sono Perché se non posso Camminare benissimo Per girare l'isola a piedi Mentre vi sto parlando Ovviamente Dobbiamo Accontentarci Poi vedremo In realtà Mark Bay Sta guardando Ciao Mark Poi vedremo Sabato Non parliamo Troppo Troppo presto Io vi saluto Vi mando un grande bacio Noi ci vediamo Sabato Stessa ora Da Gran Canaria Sud Ciao ragazzi